Ciao ragazzi, spero che stiate tutti bene, oggi siamo qui in questo nuovo video in cui andrò a spiegarvi come riscalderò casa completamente a gratis Se un anno fa si flexava con il Rolex al polso e la Lamborghini, quest'anno si flexa con questa roba qua 35 quintali di legna, è oro questa roba, è qualcosa di... quest'anno qua secondo me vengono su a rubarmi la legna Stronzate a parte, in questo video vorrei farvi un po' un tutorial, vorrei spiegarvi un po' come faccio a procurarmi la legna Vorrei essere... diciamo non voglio definirlo proprio un tutorial, però boh, e vabbè chiamatelo come volete insomma dai Ovviamente tutto inizia da qui, dal bosco Infatti in questo terreno ci sono parecchie piante che ormai sono schiantate, morte, abbattute dal vento, dalla neve, dagli uragani, da... veramente di tutto e di più Ormai sono morte, secche, e quindi sono piante che per forza di cose devo tagliare e portare via Questo perché l'abbiamo visto quest'estate che se c'è parecchio secco, non piove, basta veramente pochissimo una scintilla Che poi ti parte uno di quegli incendi che ti devasta tutto il bosco completamente Perché inizia tutto dalla foglia secca, poi c'è il ramo, poi c'è la pianta morta e poi da lì scatena tutto un inferno Quindi è un lavoro che per forza di cose devo fare Quindi cosa che faccio? Taglio tutte quelle piante lì che sono appunto ormai morte, secche Che effettivamente per me tanta roba perché è materiale che è già quasi pronto per essere bruciato Perché essendo secco comunque mi basta portarlo giù Che per portarlo, vabbè, lì ci vogliono un bel paio di braccia e anche una bella schiena Lo porto giù fino a qua dove c'è il piazzale Come potete ben vedere qua c'è già della legna da tagliare Taglio in spezzoni da 30 cm Spezzoni perfetti per la mia stufa Poi ovvio, dipendo, se usi il cammino ti serviranno dei pezzi più lunghi Se hai una stufettina più piccola della mia ti servivano dei più piccoli o spaccati più fini Però il discorso è questo Porto giù tutto il materiale L'anno scorso qua c'era anche tutta una catasta di tronchi tagliati a un metro Pronti per essere tagliati Dove poi io comunque col mio cavalletto prendevo questi tronchi Magari vi faccio vedere anche qualche clip E con la motosega entravo dentro il cannone Tagliavo tutto quanto E in 4-4-8 ti facevo quei 10 quintali di legna così A gratis E una volta tagliati i spezzoni Vi accumulo tutti qua Dove qua c'è tutta quella legna pronta per essere spaccata E successivamente portata a casa Già qui effettivamente inizia a seccare Che non è male Una volta che arrivo qua con la macchina e col carellino Spacco la legna e la butto direttamente nel carello Che lì ci sta circa un metro cubo di legna E quindi ogni volta che salgo su faccio i viaggi Salgo e scendo con questo carello e con la legna Una volta portata a casa la legna La metto nella legnaia Che anche qui effettivamente Se vuoi riscaldare casa con la legna Ti serve un posto per stoccare tutto il materiale Perché 50 quintali di legna Non è che li metti così Nell'armadio Come posto per allocare questa legna Ci vuole circa un garage da un posto auto Più o meno Per darvi un'idea Oltre a questo poi Ho costruito un portalegna che sta vicino a casa Così evito di ogni volta andare Dalla casa alla legnaia Ma ho subito lì un po' di legna Di quella settimana vicino a casa Almeno non mi sporco i piedi Quando devo prendere la legna E magari Se vi interessa Su come ho fatto a costruire questo portalegna Scrivetemi Che magari vi porto un video più dettagliato Sulla costruzione di quel portalegna Che oltre ad essere Estremamente stiloso Perché è bellissimo Effettivamente sfrutta benissimo lo spazio Lì dentro ci sta un botto di legna Una cosa incredibile E poi vabbè è bellissimo Quindi il mio processo per procurare la legna È questo Però secondo me ce ne possono essere Anche degli altri Ovvero Questo weekend Sono andato a fare Una bella pulizia Di una via della mia città Con il gruppo degli alpini E lì effettivamente Ogni volta Si fa veramente Un botto di legna Così gratuitamente È una roba incredibile Eravamo lì in due L'altro giorno Avremmo fatto 5-6 quintali Legna così In una mattinata E lì secondo me Se non hai il bosco Però hai i mezzi Le competenze Le abilità Per fare questa tipologia Di attività Secondo me puoi anche Andare al comune E dirgli Oh guarda Ti va se ti pulisco il sentiero Questo qua Che ci sono tutte le pianze schiantate Ma che il comune ti dice Sì Tu tagli E ti porti la legna a casa Detta così Sempre semplice Però non lo è Bisogna comunque avere Tutti i permessi per andare A tagliare A pulire il sentiero La 6% Di cui guarda i miei video Iscritto al canale Cioè Raga Se tutti fossero iscritti Saremmo già sulla luna Però vabbè Iscrivetevi Grazie ancora E noi ci vediamo In un prossimo video E noi ci vediamo E noi ci vediamo